referendum anche nelle marche il quorum non viene raggiunto stupro a cattolica in manette un albanese di valle foglia il caso di fabio ridolfi inizia la pratica della sedazione profonda sanità salta martini garantisce sul potenziamento pesarese sport ital service in finale la megabox si rinforza la vl studia il dopo banchi la buona serata pubblico di rossini tv ben ritrovati al nostro spazio dedicato all'informazione serale rossini news telegiornale di lunedì 13 giugno che arriva all'indomani di una domenica di chiamata alle urne andiamo a tal proposito a vedere quelli che sono stati i risultati di questa tornata elettorale a cominciare dal referendum con i risultati appunto sul referendum sulla giustizia che non ha raggiunto il quorum a livello nazionale con un dato di affluenza che si è fermato al 20,95% nelle marche l'affluenza è stata anche inferiore al 20,72% ancora più ridotta nella provincia di pesaro urbino al 16,55% in tutti i cinque quesiti avrebbe vinto il sì sia a livello nazionale che regionale e provinciale nelle marche il primo quesito riguardante l'incandidabilità dopo la condanna ha visto il sì ottenere il 53,47% di preferenze nel secondo che fa riferimento alla limitazione delle misure cautelari il sì ha ottenuto il 55,8% nel terzo quesito inerente alla separazione delle funzioni dei magistrati vittoria del sì al 75,4% nel quarto quesito membri laici consigli giudiziari maggioranza del sì al 72,8% mentre nel quinto quesito che faceva riferimento alle elezioni componenti togati del csm la maggioranza ha votato per il sì al 73,6% e dal referendum passiamo alle elezioni amministrative dei comuni coinvolti in questa tornata elettorale si votava infatti per eleggere tre sindaci di altrettanti comuni della provincia di pesaro e urbino poco fa si è concluso l'ultimo spoglio che porta a tre riconferme per quelle che sono i sindaci rieletti nei comuni di frontino tavoleto e terre roveresche andiamo a vedere il dettaglio a frontino si era andrea spagna era stato riconfermato già ieri sera primo cittadino del comune montano per il terzo mandato spagna infatti non aveva sfidanti ma raggiunto il necessario quorum già ieri col 72 per cento di affluenza oggi pomeriggio lo spoglio invece confermato a tavoletto stefano pompei rieletto sindaco con la schiacciante percentuale di 80,6 per cento di preferenze contro il 19,4 per cento di paolo marozzi in rappresentanza del partito gay lgbt plus a tavoletto ricordiamo che ha votato il 54 per cento degli aventi diritto al voto affluenza invece al 64 per cento a terre roveresche dopo dove pochi minuti fa si è concluso lo spoglio che riconferma sindaco antonio sebastianelli col 67,7 per cento delle preferenze si ferma invece al 32,2 per cento lo sfidante sauro marcucci e passiamo ora alla cronaca occupandoci di un caso di presunto stupro avvenuto sabato notte all'esterno di un locale di cattolica ai danni di una giovane pesarese nell'occasione è stato arrestato un 22enne albanese residente a Volefoglia che ora è in attesa delle indagini preliminari i dettagli all'interno del servizio di Edoardo Razzi per una giovane ventenne pesarese l'11 giugno 2022 sarà una data difficile da dimenticare l'ennesimo caso di stupro nazionale si è consumato a cattolica al di fuori del locale Malindi che ha portato all'arresto di Bukhar Metusci 22enne albanese residente a Vallefoglia sembrava un sabato sera come gli altri per la ragazza che con due amiche decide di trascorrere l'ol Malindi un locale sulla spiaggia romagnola frequentatissimo dai giovani a serata inoltrata le tre ventenni vengono avvicinate da un gruppetto di giovani albanesi uno dei quali era un conoscente di un'amica della ragazza dopo aver passato un po' di tempo assieme Metusci addocchia la giovane invitandola ad uscire e lei non immaginando cosa sarebbe potuto accadere accetta la porta in una stradina a fianco del parcheggio interno del locale un posto poco illuminato con alberi e cespugli scelto da lui per portare a termine quello che macabramente aveva pensato di fare a quel punto lui la prende con forza tentando prima di baciarla e poi di avvicinarsi alle sue parti intime lei cerca di resistere e di divincolarsi ma non riesce ad opporsi alla sua forza cala i pantaloni di lei poi i suoi e lì inizia a stuprarla un incubo per la giovane che dura circa mezz'ora fino a quando lui dopo aver terminato il suo sudicio rapporto decide di lasciarla a quel punto tra lacrime e disperazione scappa dalle amiche alle quali racconta tutto scioccate da quanto appena ascoltato inveiscono contro il gruppetto di ragazze albanesi i quali nel frattempo raggiunti da metusci reagiscono con calci e pugni sul telefono delle tre giovani l'orario segna alle 3 e mezza quando decidono di chiamare i carabinieri che insieme all'ambulanza raggiungono tempestivamente l'esterno del malindi la giovane pesarese viene immediatamente portata al pronto soccorso di Rimini con codice rosa dove i medici visitandola riscontrano alcune ferite alle parti intime riconducibili ad un atto di violenza sessuale per una prognosi di 15 giorni nel mentre le forze dell'ordine di cattolica vanno a casa del ragazzo che nega tutto sostenendo la consensualità della ragazza al rapporto tra pochi giorni metusci comparirà davanti al giudice per le indagini preliminari parte oggi la pratica medica della sedazione profonda su fabio ridolfi al 46enne ferminianese da 18 anni tetraplegico sono stati infatti riconosciuti diritti per l'accesso al suicidio assistito e oggi sarà sedato e trasferito all'ospice di Fossombrone qui per circa due settimane sarà seguito dal dottor Brunori che monitorerà passo passo il decorso della procedura che gradatamente porrà fine alle sofferenze di Fabio la comunità di Ferminiano ieri si è stretta in un ideale abbraccio d'addio al proprio concittadino con una partecipata serata di raccoglimento in piazza accompagnata dalla musica rock amata da Fabio mobilità passiva e liste d'attesa la regione Marche ribadisce il suo impegno nel combattere queste criticità potenziando la sanità pesarese come ci riferisce l'assessore regionale alla sanità Filippo Saltamartini intervistato ai nostri microfoni Pesaro ha questa importante esperienza di Marche Nord con dei reparti che sono un'eccellenza a livello nazionale io ho notato in questi 18 mesi di esperienza l'assessore della sanità che non c'è il raccordo con il territorio e soprattutto non c'è un coordinamento di rete e quindi le migliori professionalità che esistono a Pesaro devono essere valorizzate e potenziate quindi io sottolineo ancora una volta che l'impegno della regione l'impegno della giunta regionale l'impegno della maggioranza che è stata votata 18 mesi fa è quella di potenziare la sanità di questa provincia affinché quei fenomeni appunto derivanti dalla mobilità passiva vengano a cessare e ci diamo un tempo limitato insomma mesi e qualche anno non di più poi partiremo con l'edilizia che non è secondaria perché Pesaro ha il diritto lo ripeto ha il diritto di avere un osocomio nuovo ed efficiente e naturalmente questo avverrà senza discriminare le altre parti di questa provincia perché naturalmente esiste un problema dell'entroterra di una provincia vastissima che confina con l'Umbria in cui i servizi sanitari devono essere garantiti ma l'eccellenza va salvaguardata quindi tutto quello che spesso io leggo anche sulla stampa è frutto di elucubrazioni non c'è nulla che tenga a comprimere l'esperienza di Marche Nord Marche Nord andrà valorizzato e se l'esperimento funzionerà poi tutte le tappe successive saranno verso un benchmark delle altre aziende verso l'azienda di Pesaro e Marche Nord quindi noi abbiamo interesse a mettere insieme le migliori pratiche le migliori professionalità e soprattutto dobbiamo abbattere liste d'attesa e mobilità passiva questi sono gli obiettivi che la regione deve realizzare e chiaramente in questo noi siamo chiamati a esprimerci non tanto con le parole quanto più con i fatti io sono molto restivo a rilasciare dichiarazioni perché l'assessore della sanità deve parlare con i fatti quindi abbattimento di liste d'attesa e abbattimento della mobilità su questo ci stiamo impegnando sono sei mesi che lavoriamo sulla riforma e quindi penso che presto saremo in grado di dare delle risposte Assessore Salta Martini che abbiamo intervistato in occasione del convegno Tumori cerebrali, percorsi e progressi nella rete ospedaliera marchigiana un convegno andato in scena sabato a Palazzo Montagnantaldi e che approfondiamo in questo servizio Tumori cerebrali, percorsi e progressi nella rete marchigiana questo il titolo del convegno andato in scena sabato nell'auditorium di Palazzo Montagnantaldi di Pesaro un appuntamento organizzato dal dottor Letterio Morabito responsabile scientifico dell'unità operativa di neurochirurgia dell'azienda ospedaliera Marche Nord Tante le relazioni con professionisti e specialisti da tutta Italia in un'analisi trasversale volta a indagare lo stato dell'arte della ricerca clinica diagnostica del trattamento chirurgico e del follow up il tutto inserito in un contesto regionale che necessita di un coordinamento sempre più efficace fra gli specialisti del territorio che superino rallentamenti e ritardi terapeutici a danno del paziente abbiamo ideato in occasione della nuova classificazione dei tumori per fare un punto sulla diagnostica dei tumori sul trattamento chirurgico e radioterapico e chimioterapico e per adeguare in qualche maniera questa terapia complessa con delle caratteristiche organizzative complesse di una patologia come i tumori cerebrali alla situazione sanitaria delle Marche che ha una caratteristica di ospedali non di secondo livello in ogni provincia ma che può con l'integrazione e la collaborazione fra medici quindi identificare i centri dove concentrare alcune parti della terapia come la chirurgia ad Ancona e a Pesaro e avvicinare invece alle famiglie e ai pazienti stessi quindi migliorando la qualità di vita e migliorando l'esperienza della malattia al territorio dei pazienti dove in generale è presente un'oncologia dove è presente la radioterapia e identificando quindi un medico referente che possa seguire il decorso di questi pazienti adeguandolo alle terapie più aggiornate e che possa essere anche il riferimento per chi poi sul territorio segue questi pazienti in maniera ottimale Nello specifico della neurochirurgia di Marche Nord il presidio pesarese si avvale di contributi preziosi come quello del professor Riccardo Soffietti dell'Università di Torino per quel che riguarda la valutazione dei protocolli più aggiornati sui pazienti Soffietti che nel convegno pesarese ha tenuto un'alexio magistralis sulle nuove prospettive per la ricerca clinica alla luce delle nuove classificazioni Ci sono elementi positivi e elementi negativi cominciamo dagli elementi negativi Allora, gli elementi negativi sono che in quello che è il tumore primitivo più frequente che è il glioblastoma siamo in un momento piatto, flat perché l'ultima frontiera della sperimentazione che è l'immunoterapia ha dimostrato di non funzionare Allora, cos'è invece di positivo? Anche un po' alla luce della classificazione stiamo suddividendo sempre di più i gliomi quindi anche il glioblastoma in sottotipi molecolari magari piccoli ma che sono suscettibili di terapia target e dove, come proof of concept se la via molecolare è quella driver per crescere il tumore noi con farmaci specifici possiamo vedere dei risultati che non abbiamo mai visto prima peccato che sono sottogruppi al momento attuale dal 2 al 10% però la speranza è chiaro di allargarli L'attenzione del convegno si è particolarmente catalizzata sui gliomi la patologia di tumore cerebrale più frequente fra gli adulti tematiche sviluppate anche attraverso il contributo di Alessandro Ducati ex direttore della neurochirurgia delle Molinette di Torino che ha analizzato il ruolo del neurochirurgo Il punto essenziale per la sopravvivenza e la qualità della sopravvivenza è la quantità di tumore che si riesce a togliere quindi senza questo aspetto tutto il resto perde completamente significato è un ruolo essenziale ma iniziale che deve essere inserito in un contesto molto più ampio sia da un punto di vista operativo che culturale per cui a differenza di anni fa il chirurgo non lavora mai più da solo ma lavora sempre insieme al radiologo che fa la diagnosi al radioterapista che fa la terapia e all'oncologo che coordina tutti gli interventi Al convegno anche l'assessore regionale alla sanità Filippo Saltamartini per una politica determinante nel cercare un salto di qualità nell'eccellenza ospedaliera La nostra sfida è quella di migliorare la sanità a cominciare da questa provincia che è la più popolosa e anche una che contribuisce in modo determinante alla realizzazione del prodotto interno lordo Quindi il sistema che stiamo delineando è un sistema chiamato a dare risposte tempestive e appropriate e a far cessare quel fenomeno che ormai dura da decenni da più lustri della mobilità passiva Noi dobbiamo garantire che la migliore sanità sia somministrata a Pesaro e non in altre province o in altre regioni Quindi questa è una sfida e al di là dei proclami o della propaganda politica noi dobbiamo dimostrare questo con i fatti Una raccolta di 40 biciclette d'epoca che hanno scritto la storia del ciclismo italiano Una esposizione che sarà possibile visitare nel nuovo museo della bicicletta nato a Palazzo Gradari inaugurato sabato scorso A Pesaro città dello sport e della bicicletta non poteva mancare un museo interamente dedicato al mondo delle due ruote E così infatti è stato Sabato mattina è stato inaugurato a Palazzo Gradari una raccolta di 40 bici d'epoca che hanno fatto la storia del ciclismo italiano dal 1930 ad oggi Da Girardengo a Moser da Coppi e Bartali altre volte campione d'Italia originario di Pesaro Enrico Paolini che non ha tradito le attese presenziando alla inaugurazione Gran parte del merito per l'allestimento di questo tuffo nel passato va dato al collezionista di biciclette Dario Corsi che con minuziosa cura scientifica ha selezionato i pezzi in ferro e acciaio che hanno scritto la storia di questo sport Taglio del nastro avvenuto in presenza del sindaco Matteo Ricci orgoglioso di aver raggiunto un altro tassello importante per Pesaro capitale della cultura 2024 Un museo fra l'altro parziale perché la nostra idea è di farlo crescere ma molto importante perché siamo una città che vive di sport lo sport è un grande traino per il turismo siamo la città della bicicletta e grazie a Corce grazie all'impegno di tutti a iniziare dal consigliere Biancani prima poi adesso i due assessori Vimini e Dell'Adora siamo riusciti a realizzare un piccolo sogno ma è solo un punto di partenza quando avremo realizzato il museo nazionale della motocicletta avremo anche più spazio per il museo della bicicletta e quindi però è una strategia che continua anche nel senso della capitale italiana della cultura perché per noi lo sport è anche un pezzo della cultura pesarese e fa parte in qualche modo della natura della cultura che abbiamo raccontato nel dossier è un museo dedicato alla bicicletta nello specifico a bici che hanno fatto la storia del ciclismo sportivo quindi delle competizioni è anche un'occasione per raccontare la bicipolità hanno messo essenzialmente un tributo ai grandi del ciclismo a partire compreso anche dal nostro orgoglio pesarese Paolini celebre per avere per avere tra le altre cose battuto in volata Merckx ma anche campione italiano nazionale e anche più volte maglia rosa Enrico è la nostra storia è una persona fantastica una persona fantastica che ho avuto il piacere insieme al figlio di invitarlo qua Paolini ha vissuto proprio l'era dei grandi campioni battendoli per ben 28 volte vincendo tre campionati italiani abbiamo un personaggio a Pesaro che si è fatto conoscere nel mondo sono molto contento che oggi sia qua Enrico all'inaugurazione era presente anche una bandiera dello sport come Valentina Vezzali sottosegretario di Stato alla presidenza del Consiglio dei Ministri con delega allo sport che non ha risparmiato elogi alla città di Pesaro Pesaro una grande città virtuosa dal punto di vista sportivo una amministrazione illuminata con il suo sindaco Matteo Ricci che ha capito l'importanza della promozione della cultura sportiva che passa anche attraverso i musei questo museo della bicicletta mi auguro che sia il primo di tante altre iniziative come queste perché attraverso il coinvolgimento iniziative dei ragazzi delle scolaresche ma anche di tutte le persone possiamo portare alla pratica sportiva e a condurre stili di vita sani e attivi quante più persone possibili un museo che ha visto ricevere anche un importante finanziamento da parte della regione Marche circa due anni fa avevo previsto dei finanziamenti diretti a favore del comune di Pesaro proprio per riuscire a creare nella città di Pesaro un museo dedicato alla bicicletta ci siamo riusciti è una bellissima cosa devo dire che noi per potersi promuovere abbiamo bisogno di servizi anche di realtà come queste sono tante le persone che vengono a visitare il nostro territorio andando in bicicletta ma era giusto anche dotare questa città di un museo appunto dedicato alla bicicletta perché gli appassionati avevano sicuramente bisogno anche di questo e l'estate pesarese si arricchisce di un altro appuntamento fisso domani infatti 14 giugno piazza Toschimosca riavvia per la settima edizione il suo San Pietrino Summer Street Festival che fino a settembre sarà un appuntamento appunto fisso di ogni martedì di questa zona del centro storico stessa data il martedì sera stesso luogo piazzetta Toschimosca ma sempre più attori coinvolti nelle San Pietrino Summer Festival 4.0 che comincia martedì 14 giugno con una settima edizione che si conferma appuntamento sempre più apprezzato dell'estate pesarese all'ombra dei musei civici musica convivialità il craft market regionale e quest'anno anche tematiche attraversate trasversalmente dalla lettura al benessere olistico San Pietrino 4.0 quest'anno si ha creato un'associazione culturale che si chiama Massa Siva con le mie amiche di Silent Book che sono le ragazze che ospettiamo tutti i giovedì qui alla casetta Vaccai a leggere libri e a fare delle degustazioni e quest'anno abbiamo coinvolto anche una parte un pochino più olistica che ci piaceva così perché il nostro tema è l'ecosostenibilità abbiamo coinvolto l'erboristeria Il Cerchio che ha aperto da poco tempo ha fatto un cambio di gestione e lui ci ha fatto un pochino da rete con un'associazione che si chiama MAT che faremo yoga all'interno dei musei civici nella giornata mondiale dello yoga e parleremo di cibo consapevole abbiamo organizzato questi quattro incontri sul tema ecosostenibilità ma soprattutto benessere per sensibilizzare le persone ad ascoltarsi a cercare la salute da varie forme non solamente da quella curativa in erboristeria ma anche quella appunto dello spirito dell'anima e anche nel rispetto dell'ambiente collaborerò col centro MAT per benessere olistico yoga e floriterapia per poi passare anche all'osteopatia in un progetto che riguarda anche l'agricoltura bioenergetica e poi Giulia della Costanza nutrizionista che insieme a una pedagogista e a una psicologa parleremo anche appunto di generalità consapevole quest'anno diciamo abbiamo deciso di aggiungere anche l'aspetto culturale quindi il silent book si sposta dagli incontri del giovedì al martedì ringraziamo i musei civici che ospiteranno le presentazioni dei libri e le letture all'interno del loro cortile useremo le finestre del palazzo per far esporre giovani artisti sia fotografi che pittori per rappresentare Pesaro con un occhio diverso e quindi ecco appunto apriremo ci apriremo ancora di più alla città per rendere questa piazza sempre di più un salotto il salotto culturale della città per tutti abbiamo trovato corretto diciamo partecipare perché sono abbiamo vissuto due anni come situazioni un po' complicati perché abbiamo ci è mancato il contatto diretto con la gente quindi Avis sarà presente a tutti gli incontri scopo di Avis è aumentare soprattutto il numero di donatori le donazioni che abbiamo sono tante ringraziamo i nostri donatori attuali ma c'è sempre più bisogno di sangue quindi possiamo solo chiedere che le persone superino le loro difficoltà e le loro remore e diventino donatori E' proprio a margine del primo martedì dedicato al San Pietrino Summer Festival domani 14 giugno il sindaco di Pesaro Ricci festeggia i suoi otto anni da sindaco di Pesaro per l'occasione nel cortile dei musei civici a partire dalle 21 ci sarà un momento di incontro aperto alla cittadinanza con il sindaco che sarà intervistato per l'occasione dalla nostra direttrice di Rossini TV Emanuela Rossi e da Maurizio Blasi ex caporedattore del TGR Marche l'invito all'appuntamento arriva dallo stesso sindaco che l'ha comunicato attraverso i suoi canali social otto anni fa siamo partiti da qui il primo provvedimento preso dopo pochi giorni dall'elezione è stata quella di togliere le macchine e trasformare ciò che era in un parcheggio in una bomboniera della città oggi Piazza Mosca è bellissima e domani sera inizierà il San Pietrino grazie all'attività della casetta Vaccai caffè storico della nostra città e noi proprio dentro il museo della città nel cortile dei musei civici faremo il nostro incontro abituale ormai per fare il punto sulla città che cambia sui progetti e sui tanti finanziamenti che abbiamo ottenuto con i tanti bandi all'interno del PNR mi intervisterà Emanuele Rossi che è la direttrice di Rossini TV e Maurizio Blasi che è l'ex direttore storico del TGR Marche la faremo in questo luogo durante il San Pietrino quindi potete venire a fare l'appetitivo ma è uno dei buoni singoli anche perché lo sfondo è quello della libreria ricavata da un'opera del Rossini Opera Festival Ci vediamo domani Pesaro capitale della cultura Pesaro città che cambia alle 21 in piazza Moschia E le immagini che vi mostriamo ora ci portano a fare un tuffo all'indietro di due secoli immagini che sono quelle del partecipato picnic rossignano che si è tenuto ieri agli orti giuli di Pesaro in occasione della rassegna Perticari 200 che celebra il bicentenario della scomparsa dell'intellettuale pesarese coinvolte nell'evento biblioteca oliveriana e museo nazionale Rossini domenica 19 giugno invece Perticari 200 sposta le sue iniziative a Sant'Angelo in Lizzola per poi concludersi il 26 giugno a San Costanzo luogo in cui Perticari morì esattamente il 26 giugno 1822 anche Marche Multiservizi opta per la sostenibilità adottando una spazzatrice elettrica per la raccolta dei rifiuti una scelta aziendale un investimento mirato alla riduzione dell'impatto ambientale delle attività e allo sviluppo inclusivo della comunità grazie all'alimentazione 100% elettrica consente infatti di eliminare completamente le emissioni di CO2 e ridurre il rumore prodotto durante i passaggi e sbarca nelle Marche la staffetta paralimpica ideata da Alex Danardi giunta alla sua terza edizione iniziativa dal nome Obiettivo Tricolore partita il 5 giugno dalla Puglia con arrivo previsto il 26 giugno a Cortina D'Ampezzo secondo il cronoprogramma da lunedì 13 a mercoledì 15 giugno attraverserà le Marche con tre tappe Iesi Senigallia e Pesaro protagonisti gli atleti paralimpici Enrico Fabianelli Alessia Polita Guglielmo Capolino e Mattia Cervellone la grande staffetta paralimpica ideata da Zanardi nel 2020 per riunire l'Italia dopo il lockdown sarà percorsa da atleti in sella in bike biciclette e carrozzine olimpiche per dimostrare che le disabilità fisiche e mentali non sono un limite ma una diversa opportunità di vita e continuiamo ad approfondire le tematiche sportive con un altro grande risultato dell'Ital Service Pesaro che dopo la semifinale Scudetto vinta sabato contro Napoli per 7 a 4 approda in finale per il tricolore per il terzo anno di fila a margine della vittoria hanno però fatto rumore le parole del presidente Lorenzo Pizza che al netto dei 496 biglietti venduti ha dichiarato vergognosa e umiliante la scarsa affluenza che c'è stata sugli spalti e ha ricordato come Napoli nella prima partita delle semifinali abbia giocato ad Aversa a 50 km di distanza dal suo palazzetto e abbiano comunque assistito 2000 persone Pizza che ha inoltre scacciato qualsiasi equivoco dichiarando impensabile un suo allontanamento dal calcio 5 per dedicarsi ad altre discipline VL su tutte e proprio della VL parliamo perché la settimana di sport ha sentenziato sabato anche l'ufficialità della separazione della Carpegna Prosciutto Pesaro basket e da coach Luca Banchi in un comunicato la VL infatti ricorda come al cospetto di una reciproca approfondita e seria disponibilità l'allenatore abbia preferito declinare l'offerta per concentrarsi su altri progetti professionali ora il nome di Attilio Caia sembra quello in pole position per la successione sulla panchina della VL 2022-2023 concludiamo lo sport con la pallavolo ambizioni futuro e l'annuncio di un importante nuovo acquisto sono state queste le tematiche di cui si è parlato questo weekend nella conferenza di apertura della stagione della Megabox Vallefoglia una prima stagione in Serie A1 conclusa con una salvezza ottenuta la penultima giornata che è servita per porre le basi per il futuro la Megabox Vallefoglia ha grandi progetti per i prossimi anni e a confermarli è lo stesso presidente Ivano Angeli che in occasione della presentazione della nuova palleggiatrice americana Misha Hancock si è detto fiducioso per un ulteriore step in avanti della sua squadra è il nostro intento quello dei playoff quindi faremo di tutto per esserci la squadra l'abbiamo quasi completata oggi avete avuto la prima bella notizia della palleggiatrice quindi adesso aspettiamo le prossime il primo acquisto ufficializzato porta dunque il nome di Misha Hancock palleggiatrice statunitense classe 1992 alla sua sesta stagione in Italia dopo le esperienze in A1 di Monza e Novara è un giocatore molto forte ma non lo devo dire io l'abbiamo presa per questo deve portarci tanta esperienza è un palleggiatore geniale ma è anche un giocatore che può darci una grossa mano in attacco quindi in termini di punti sia perché batte in modo micidiale sia perché avendo questo braccio mancino può portare a casa qualche punto che altri palleggiatori magari non hanno coach Bonafede conferma che quella alle porte sarà una stagione complicata per tutte le squadre e che non mancheranno di certo sorprese comincieremo sicuramente dopo Ferragosto perché esattamente come abbiamo detto prima quest'anno è l'anno dei mondiali sarà una stagione difficile per tutti perché le nazionali arriveranno a pochi giorni dall'inizio del campionato e quindi aspettatevi nelle prime due settimane dei risultati a sorpresa sicuramente la Megabox anche per quest'anno disputerà le partite casalinghe al Palacarnaroli di Urbino vista la capienza insufficiente che può offrire il Paladionigi di Montecchio noi stessi stiamo cercando risorse con la rigenerazione urbana del PNRR per riuscire a diciamo realizzare degli interventi necessari per poter giocare magari il prossimo anno a Montecchio però al di là di dove si gioca è che ci inorgoglisce il fatto che grazie a Megabox grazie a Ivano già dall'anno scorso che nessuno pensava si è stati protagonisti nella nazionale di A1 con un orgoglio veramente per tutta la vallata del Foglia per Peso Urbino per Vallefoglia siamo veramente grati alla Megavolley per questa scelta e per questa occasione di unire i territori e di poter credere in un progetto che ha un alto valore formativo ecco appunto già il fatto di essere insieme nel poterti fare questa squadra ad alti livelli non è cosa da poco è un vero esempio anche per i nostri giovani giocatori perché come ha ben spiegato il coach qui si tratta di costruire un percorso che ponga delle basi solide e poi miri in alto e con la Megabox Vallefoglia concludiamo questa nostra edizione della telegiornale Rossini News prima di salutarci vi ricordiamo la nostra prima serata che alle 21 e 20 vi propone il nostro speciale dedicato all'Università degli Studi di Urbino e in particolare della nuova campagna di comunicazione quella destinata alle nuove matricole ai nuovi iscritti all'Ateneo Urbinate speciale realizzato dal nostro Paolo Pagnini che andrà in onda come detto alle 21 e 20 ma facciamo un salto anche a domani martedì 14 giugno alle 21 trasmetteremo in diretta gli otto anni da sindaco con l'intervista a Matteo Ricci per l'occasione realizzata come moderatrice dalla nostra Emanuela Rossi e anche dall'ex caporedattore Rai Maurizio Blasi l'intervista al sindaco Ricci nei suoi otto anni di mandato sarà a margine della serata San Pietrino Street Festival che si terrà nelle cortile dei musei civici appunto domani alle 21 e poi l'informazione su Rossini TV torna puntuale domattina alle 7 e 20 in diretta con la nostra rassegna stampa Buongiorno Rossini che per l'occasione sarà condotta proprio dalla nostra Emanuela Rossi prima di salutarci vi ricordiamo come sempre l'app di Rossini TV uno strumento utile per avere a portata di smartphone la possibilità di consultare le nostre notizie vedere i nostri programmi il nostro palinsesto o semplicemente per inviare segnalazioni alla nostra redazione Ed è davvero tutto per questa sera Rossini News si conclude qui ora ci sono le previsioni del tempo e a me non resta altro che salutarvi e augurarvi una buona serata in compagnia dei nostri programmi grazie a tutti Grazie a tutti.